con un'ansia che assomigliava all'angoscia raccolse attorno a me gli strumenti della vita atti a infondere una cintilla di esistenza nell'essere inanimato che giaceva ai miei piedi era già l'una del mattino la pioggia batteva a sinistra sui vetri e la candela avrebbe presto dato i suoi ultimi guizzi quando alla luce che stava per spegnersi vidi aprirsi i foschi occhi gialli della creatura un ansito e un moto convulso le agitarono le membra sono poche righe eppure questa scena è entrata nell'immaginario letterario e in seguito cinematografico e ci ha accompagnato praticamente intatta fino a oggi è potentissima, è una scena forte, è una scena che evidentemente noi riusciamo facilmente a immaginarci immaginiamo la stanza dello scienziato, immaginiamo gli attrezzi, il cinema poi ne ha aggiunti altri rispetto a quelli che erano descritti in questa scena immaginiamo la luce bassa, la penombra e fuori questo temporale e poi improvvisamente la creatura che si risveglia questa scena Mary Shelley la scrive insieme alle altre pagine del romanzo all'età di 18 anni praticamente è una ragazzina quando scrive Frankenstein eppure in questo romanzo riesce a creare un mostro un'incarnazione del mostro potentissima ed è così potente da riuscire in pratica a superare anche le pagine del romanzo e a superare sicuramente il suo tempo ma che cos'è che rende effettivamente così potente il mostro di Frankenstein? probabilmente è proprio il fatto che non è un mostro così mostro cioè che la sua natura, come vedremo, è molto più complessa, più stratificata per capire però il romanzo secondo me bisogna capire chi è che l'ha scritto in questo caso e un po' della sua storia per vedere come in effetti la storia biografica di Mary Shelley si vada a mescolare e dia vita proprio a certe immagini certe pagine del suo romanzo Mary Shelley nasce in un soborgo di Londra nel 1797 nasce in una famiglia in cui la cultura è sempre stata importante è sempre stata al centro sua madre è una scrittrice e a sua volta giovanissima è scappata di casa fuggendo da un padre violento e è andata diciamo con il suo manoscritto a presentarsi in una libreria per avere un lavoro da traduttrice il libraio non solo diciamo accoglie e assume la madre di Mary Shelley ma addirittura pubblica il suo romanzo e lei diventa appunto una scrittrice famosa e diventa anche una praticamente filosofa una una delle primissime teoriche del femminismo e della importanza dell'uguaglianza tra uomo e donna la sua vita sarà una vita avventurosa lei avrà una relazione molto importante anche molto travagliata con un pittore del suo tempo Fusli il quale tra gli altri dipinge un quadro che secondo me appunto in qualche modo riporta anche all'immaginario del Frankenstein questo quadro si intitola L'incubo e c'è una donna sdraiata sul letto che in qualche modo viene osservata e sorvegliata dalle creature demoniache questo quadro è particolarmente bello e soprattutto ha a che fare con quella irruzione del del mostruoso del pericoloso del perturbante nel quotidiano che è poi uno dei temi sicuramente che sostengono anche il Frankenstein la madre di Mary Shelley appunto dopo questa avventura d'amore con Fusli va via dall'Inghilterra va in Francia partecipa o comunque studia per un periodo anche la rivoluzione francese e poi torna alla fine in Inghilterra e a questo punto si sposa con quello che è appunto il padre di Mary Shelley che si chiamava William Goldin anche William Goldin è uno studioso è un filosofo in particolare e diciamo entrambi sono circondati da un ambiente letterario che poi continuerà a essere l'ambiente in cui cresce Mary un ambiente in cui le sollecitazioni appunto intellettuali sono importantissime purtroppo la madre di Mary Shelley dopo averla partorita va incontro a una infezione e dopo neanche dieci giorni muore di setticemia in questo morte avvenuta per darla alla luce praticamente Mary Shelley incontra per la prima volta e vede per la prima volta quel contatto tra creazione e morte tra nascita e distruzione che poi ritornerà ovviamente nella nella scena fondamentale della nascita della creatura quando Mary ha tre anni il padre si risposa e lei vive questo nuovo matrimonio in maniera molto problematica nel senso che si sente in qualche modo tradita dal padre e questo tema di essere rifiutata di non essere amata abbastanza è un'altra cosa che si porta dietro per tutta la vita Mary Shelley piano piano vediamo che cominciano a evidenziarsi in questa storia dei pezzi il quadro di Fussli la morte della madre l'abbandono da parte del padre da cui appunto Mary vorrebbe essere amata totalmente a questo si aggiunge ancora un altro pezzo vedremo che alla fine tutti questi pezzi andranno proprio a costruire la nascita e le pagine del romanzo che Mary scriverà a 18 anni nell'ambiente di casa Goldwyn insieme agli altri intellettuali c'è un certo Sir Humphrey Davy Sir Humphrey Davy è noto soprattutto per i suoi studi sul galvanismo di cosa si tratta in pratica vari contemporanei del tempo di di Goldwyn di Mary Shelley studiavano gli effetti che l'energia elettrica poteva avere su corpi già defunti uno degli esperimenti più famosi viene fatto a questo proposito nel nel gennaio del 1803 questi esperimenti queste dimostrazioni venivano fatte pubblicamente ed erano piuttosto spettacolari nel caso specifico a fare questo esperimento che passerà diciamo alla storia è tale Giovanni Aldini nipote di Luigi Galvani e Giovanni Aldini si fa dare un cadavere e un cadavere di un malvivente che è morto sulla forca e applica l'elettricità a questo cadavere una volta già cioè a questo cadavere di questo esperimento esiste una cronaca vi leggo la descrizione nella prima applicazione del processo al viso le mandibole del defunto criminale cominciarono a tremare e i relativi muscoli si contorsero orribilmente tanto che un occhio si aprì nella fase successiva del processo la mano destra si alzò e si serrò e gambe e cosce si mossero ora capite bene come una descrizione di questo tipo faccia proprio pensare al risveglio del mostro dunque il galvanismo entra a pieno titolo nell'immaginario appunto del romanzo di Mary Shelley intanto la famiglia Godwin si è spostata di casa non vive più nella casa dove è nata Mary ma si è spostata in un'altra zona di Londra una zona un po' strana perché a pochi metri da casa di Mary ci sono tre carceri e c'è il mercato della carne di Londra di notte si sentono gli animali che vengono macellati la folla spesso si riunisce proprio vicino nei paraggi della casa di Mary per assistere alle impiccagioni e non ci dobbiamo dimenticare che Mary ha comunque una certa familiarità con i cimiteri perché va spessissimo a trovare la madre che per lei è diventata una figura assolutamente mitica e quindi lei praticamente nei momenti di sconforto o in cui le succede qualcosa prende e va a parlare con la madre appunto presso la tomba è chiaro che si sta creando intorno a Mary tutto quello che è l'immaginario proprio del romanzo che poi scriverà ci sono gli animali che vengono uccisi e anche il dottor Frankenstein per preparare il suo esperimento per preparare la nascita della creatura tortura animali vivi c'è il cimitero dove è sepolta la madre e anche il dottor Frankenstein si aggirerà per il cimitero per trafugare i corpi i cadaveri da cui prendere gli organi per costruire il suo mostro e ovviamente questa immagine di queste esecuzioni di assassini e ladri crea tutto un immaginario un insieme di idee e anche di atmosfere che poi ritroviamo nelle pagine di Mary ma per capire tutto quello che c'è dentro il romanzo di Mary Shelley ci vuole ancora un pezzo ci vuole ancora un ingrediente e questo ingrediente forse non ci aspetteremmo di trovarlo in un romanzo che da sempre viene considerato un romanzo gotico e del terrore per eccellenza e invece vedremo che questo è un elemento fondante e l'elemento è l'amore Mary ha 16 anni quando si innamora perdutamente di Shelley il poeta lui frequenta la casa sempre per questo circolo questa intelligenza e queste riunioni che vengono fatte a casa del padre di Mary e a un certo punto vede questa ragazza lui è già sposato ha già un figlio e sua moglie tra poco ne aspetterà un altro ma tutto questo non gli impedisce di innamorarsi perdutamente di Mary lei a sua volta è affascinata da questo giovane che è più grande di lei a cinque anni più di lei ed è già affermato anche intellettualmente culturalmente è già riconosciuto come poeta comunque i due decidono a un certo punto di scappare insieme decidono di scappare insieme per rendere la loro unione definitiva perché nel momento stesso in cui scappano la diciamo la reputazione di Mary è distrutta per sempre e lei non potrà mai più avere un altro matrimonio una vita normale scappano e si portano dietro la sorellastra di Mary strana scelta comunque scappano tutte e tre insieme decidono di andare in Francia ma il viaggio da subito si come dire si diventa problematico diventa difficile nello stretto della manica vanno incontro una tempesta terribile e poi ben presto si ritrovano anche senza soldi a questo punto dopo aver vagato un po' per l'Europa decidono di rientrare in Inghilterra nel viaggio di ritorno succede qualcosa che per la nostra storia è importante perché decidono di fare questo viaggio lungo i fiumi cioè di non passare diciamo da terra ma di navigare lungo i fiumi e a un certo punto passano vicino al castello di Frankenstein si chiama proprio così Burr Frankenstein è una rocca rovinata decrepita che si trova su un promontorio quindi è probabile che loro passando accanto sulla barca l'abbiano appunto potuto vedere magari anche di notte magari anche alla luce della luna o così a noi piace immaginarlo questa rocca questo castello di Frankenstein ha fatto nascere nel tempo varie leggende che probabilmente appunto vengono raccontate a Mary magari la notte stessa mentre loro stanno navigando accanto intanto si vocifera che ci abbia abitato un uccisore di draghi chiamato Von Frankenstein si pensa che ci sia un tesoro nascosto ma quello che soprattutto si dice è che in questo castello sia vissuto un certo Dippel un alchimista questo alchimista è vissuto in questo castello terrorizzando gli abitanti del paese vicino perché a quanto si racconta Dippel faceva degli esperimenti piuttosto macabri con animali e con corpi trafugati dal cimitero per scoprire un elisir di lunga vita vi ricorda qualcuno? chiaramente Mary si deve essere fatta diciamo influenzare abbastanza da questa figura di Dippel sicuramente possiamo pensare che quando noi vediamo nel romanzo il dottor Frankenstein a girarsi nel cimitero e andare a trafugare i cadaveri per prendere i pezzi per il suo mostro l'idea che ci sia un eco in Dippel è abbastanza facile da pensare e quindi ecco che abbiamo un altro pezzo che si va a unire agli altri e poi ci sono anche due elementi uno è la notte di Villa Deodati e l'altro è un vulcano cosa c'entrerà un vulcano in questa storia allora Villa Deodati Villa Deodati è una villa settecentesta con un cancello di ferro tante finestre un parco intorno dove a un certo punto Byron si decide di passare l'estate del 1816 e decide di invitare i suoi amici i coniugi Shelly che a quel punto appunto sono a tutti gli effetti una coppia e un tale poeta scrittore anche egli Polidoro italiano nel frattempo cosa è successo a Mary Shelley e a Shelley che hanno perso un bambino quasi subito Mary ha perso un bambino e adesso ne hanno fatto un altro che è fortunatamente sopravvissuto quindi arrivano a Villa Deodati con il loro bambino piccolo e e appunto Polidoro Byron è una persona affascinante è già famoso è già molto famoso è più grande di loro ed è anche molto discusso nel senso che sul suo conto si dicono varie cose dicono che ci sono dicerie secondo cui ha diverse amanti secondo cui è una persona estremamente crudele secondo cui forse è anche un amore con con la propria sorella in questa casa i quattro personaggi si trovano in una situazione strana perché nel 1816 l'estate non c'è è giugno ma l'anno prima è successo qualcosa dall'altra parte del mondo praticamente vicino all'India e cioè che un vulcano il tambora ha eruttato e ha riempito l'atmosfera di cenere provocando quello che viene chiamato un inverno vulcanico praticamente in quell'estate del 1816 non c'è quasi mai il sole il cielo è plumbeo spesso piove è molto freddo tanto che i ghiacciai e i laghi sono appunto ghiacciati i quattro come dire turisti di Villa Deodati non sanno come passare il tempo avevano probabilmente pensato di fare delle escursioni nei boschi che invece si trovano spesso costretti a rimanere a casa leggono molto leggono soprattutto racconti del terrore leggono una raccolta di racconti di fantasmi leggono il monaco di Lewis un romanzo appunto gotico famosissimo ancora oggi famosissimo e a un certo punto una sera si tratta del 17 giugno la sera del 17 giugno del 1816 appunto decidono di fare un gioco decidono di sfidarsi a chi scrive il racconto del terrore più bello e così la sera stessa la notte stessa probabilmente con fuori temporali e freddo iniziano a lavorare ognuno alla propria storia delle storie di Byron e Shelly non sappiamo niente forse non le hanno mai finite forse non le hanno scritte non lo sappiamo invece Polidoro scrisse una Polidori scusate scrisse una storia che che si intitola il vampiro e che ebbe comunque una certa fortuna ma quella che scrive il racconto più importante è Mary perché è proprio qui a Villa di Odati che nasce l'idea di Frankenstein e nelle settimane successive a fine giugno quando Shelly e Byron vanno a fare passeggiate comunque nei dintorni lei resta a casa e scrive come una pazza scrive 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 proprio ha trovato la sua storia bene scrive e e va anche lei ogni tanto a passeggiare fino a un ghiacciaio che c'è vicino a Villa di Odati e forse non è un caso che il romanzo di Mary Shelly inizi proprio in un paesaggio ghiacciato le prime pagine si aprono sulla figura del capitano Robert Walton è lui che vediamo Walton è un esploratore Mary aveva avuto occasione durante la sua giovinezza di passare un periodo in Scozia dove aveva incontrato anche dei viaggiatori dei naviganti e probabilmente questo è un ricordo che ritorna Robert Walton è a bordo della propria nave e ha appena ricevuto un'eredità grazie alla quale potrà finalmente fare il viaggio che ha sempre sognato verso il polo per capire per scoprire cosa attrae lago della bussola appunto verso nord a un tratto però scrive Walton nelle lettere che invia alla sorella lui e l'equipaggio vedono all'orizzonte passare una slitta e questa slitta è guidata da un essere che anche a distanza loro giudicano di proporzioni mostruose è la prima apparizione nel romanzo della creatura ma la creatura appare e sparisce nel senso che il capitano e i suoi non fanno neanche in tempo capire che cosa sia e lo vedono appunto annullarsi nel bianco dell'orizzonte il giorno dopo però arriva un altro visitatore il capitano Walton trova un'altra slitta sulla banchisa ghiacciata questa volta è guidata da un uomo e l'uomo è in stato molto disperato è è infreddolito è affamato sembra quasi che stia per morire al che il capitano il suo equipaggio lo convincono a salire sulla loro barca l'uomo è il dottor Frankenstein e da questo momento in poi inizia a raccontare la propria storia la propria storia è quella di uno scienziato uno studente prima ancora promettente che però a un certo punto si fissa con un'ossessione la sua ossessione è quella di creare un essere creare un essere che abbia delle qualità migliori addirittura dell'essere umano dare vita alla materia che vita non ha ben presto il dottor Frankenstein arriverà a raccontare al capitano proprio quel momento che noi con cui noi abbiamo iniziato cioè il momento in cui la creatura apre gli occhi ma che cosa succede dopo succede che Frankenstein il dottor Frankenstein si spaventa capisce subito di aver creato qualcosa di orrendo e fugge fugge nella sua camera lasciando nello studio nel laboratorio la creatura da sola fugge nella propria camera e qui probabilmente stremato dalla sofferenza dall'agitazione dalla stanchezza si addormenta la creatura si alza e inizia a girare per le stanze probabilmente di questa casa e a cercare il proprio creatore e l'immagine è molto forte e ci fa veramente venire in mente quel famoso quadro di Fussli perché a un certo punto il mostro scosta le cortine del letto e guarda il suo creatore il dottor Frankenstein lui si sveglia di soprassalto si terrorizza scende dal letto e il mostro allunga la mano per toccarlo per essere preso da chi l'ha creato per essere accolto ma questa mano rimane senza stretta tutto quello che succede dopo nel romanzo è una conseguenza praticamente di questo primo rifiuto che il dottor Frankenstein fa nei confronti della creatura che lui stesso ha messo al mondo a cui lui stesso ha dato la vita il romanzo di Mary Shelley è quindi soprattutto alla fine non tanto un romanzo del terrore quanto un romanzo sulla incapacità e sull'impossibilità di essere amati la creatura di Mary Shelley il mostro di Mary Shelley è così potente è così si è così tanto imposto nel nostro immaginario perché non è un mostro che nasce cattivo che nasce crudele che nasce spietato nasce invece con un bisogno estremo di amore che non viene colmato nella scena insomma nella scena finale del romanzo verso la fine del romanzo il dottor Frankenstein muore sulla nave del capitano e a un certo punto il capitano scende nella cabina dove è il corpo di Frankenstein e trova la creatura trova la creatura che piange e allora il capitano dice al mostro è inutile che ora piangi è inutile che ora ti penti tutte le cattiverie che hai fatto le feratezze che hai fatto e il mostro risponde così il mio cuore era fatto per essere sensibile all'amore e alla comprensione e quando fu sviato dalla sofferenza al male all'odio non ha sopportato la violenza del cambiamento senza una tortura che neanche tu puoi immaginare ecco e forse per questo il cuore della creatura di Mary Shelley fatto per l'amore e corrotto invece alla fine dall'odio è tra i cuori più commoventi della letteratura ed è questo che ancora oggi ci affascina così tanto e ci prende così tanto quando leggiamo il Frankenstein di Mary Shelley buona lettura